L'energia è come un grande mare in cui siamo tutti alla ricerca di una riva, un punto d'approdo sicuro, un partner affidabile che ti sappia dare ciò che serve, quando serve e alle tariffe migliori sul mercato, come TEA Energia. Con Energia Certa, ad esempio, è sempre l'ora della convenienza, perché riserva alle famiglie un'offerta luce con un prezzo fisso e invariabile fino a dicembre 2017. Luce e gas di TEA Energia. Insieme. Conviene. Grazie.